Ciao bambini, siete pronti ad aiutarmi a fare la spesa? Dovete sapere che mi è venuta proprio voglia di preparare la torta margherita. Sono andata a cercare la ricetta che mi ha dato mia nonna qualche anno fa. Eccola qua, questo è ciò che mi serve. Andiamo al supermercato a comprare questi ingredienti. Questo è lo scaffale del supermercato. Attento, ci sono degli ingredienti che mi servono per la torta e degli ingredienti che non mi servono. Cosa ti chiedo di fare? Dobbiamo scoprire quanto spendo in tutto per comprare gli ingredienti della torta. Tornando indietro puoi rivedere la ricetta e lo scaffale del supermercato. Guarda quanto costa ogni ingrediente e trova l'operazione per capire quanto sia la spesa in tutto della maestra Valentina. Quando avrai trovato il totale e scritto l'operazione sul quaderno, sotto disegna le banconote e le monete che devo utilizzare per pagare. Scegli tu le banconote che preferisci o le monete che preferisci. L'importante è che corrispondono alla cifra esatta che io devo pagare. Dopo aver preparato la torta per merenda, ho deciso che per sera posso preparare una buonissima pizza con il salame piccante. Vado a cercare la ricetta nel ricettario e trovo questa ricetta pizza con il salame piccante. Servono proprio questi sette ingredienti. Proviamo a vedere se li troviamo al supermercato. Eccoci qua di nuovo al supermercato. Anche questa volta ti chiedo di cercare gli ingredienti che mi servono per la pizza, vedere quanto costano e calcolare il totale. Ok? Quindi come nel quesito di prima, ti chiedo di calcolare in tutto, quindi di sommare, quanto la maestra Valentina spende. Dopo aver trovato il totale, anche in questo caso puoi disegnare le banconote e le monete che la maestra può utilizzare per pagare. Le bastano 15 euro? Spero che questa gita al supermercato con la fantasia vi sia piaciuta. A presto, un grosso abbraccio! A presto, un grosso abbraccio!